Pa 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 Buongiorno e benvenuti a Misteri Misteriosi. Per anni la scienza si è interrogata sulla genesi e la formazione dei cerchi nel grano. Noi di Misteri Misteriosi abbiamo portato avanti studi approfonditi sul campo gravitazionale, su quello geomagnetico e sulle interferenze quantistiche, ora abbiamo realizzato un metodo per prevederne la formazione. Quindi quando noi vediamo verificarsi determinate condizioni elettromagnetiche gravitazionali e soprattutto quando vediamo che nel campo di grano compare un colossale compasso, allora abbiamo la presumibile certezza che quella sera succederà qualcosa, si avvererà la formazione di un cerchio nel grano.